Ciao creatura, io sono Ecate Splendente, benvenuta, bentornata nel regno di Cosai, A-S-M-A. Ciao creatura, questa sera come hai letto dal titolo, un'olla che sarebbe dovuto uscire come tipo l'ultimo video di Halloween, della serie di Halloween, ma è arrivato il 2 novembre e con il pacchetto di Sheen che mi arrivano sempre dopo, della data che scrivono, molto dopo, perché io vivo in questo paesino, probabilmente per questo, comunque, ti guardiamo insieme, semplicemente avevo comprato una cosa di Halloween per poi creare altre cose di Halloween, eccetera, eccetera. Come hai visto ho fatto tutta una serie di Halloween e poi dopo, non l'ultimo, perché l'ultimo era quello di dire fare baciare che volevo che uscisse proprio il giorno di Halloween, infatti è così. però la volta prima, quindi un venerdì, doveva uscire anche lì un altro tema Halloween, invece ho fatto uscire in Extremis quello che tenevo lì da mesi di Palia, ma ho visto che Palia non vi piace tanto, quindi non farò più uscire video di Palia, mentre invece quello di HorrorStore, che comunque guardano in pochi, quello lo faccio comunque uscire perché abbiamo iniziato una cosa insieme e adesso la finiamo, e adesso la finiamo, non voglio lasciare una cosa a metà, invece l'altro non c'era un inizio e una fine, è un gioco finito, quindi invece il libro ha un inizio e una fine, e comunque ho già un nuovo libro che leggeremo insieme, che è un libro che probabilmente ho tipo solo io e l'autore, perché l'autore è un mio amico e tra l'altro c'è tutta una storia che poi ti dirò quando sarà il momento creatura, è anche bello perché interagiremo con tante vicende dietro le quinte del libro, dico solo questo. Vabbè, passiamo immediatamente, se no Roberta Sirita che vuole andare al sodo, quindi all'hall, è un hall del sito del diavolo, cioè Shein, perché adesso è Shein ho odiato da tutti, perché adesso c'è Demo, quindi farò un hall anche di Demo, però io senza collaborazione andrò io a fare un hall, un ordine di tasca mia, come per Shein, solo che Shein ho sempre degli sconti, e Demo non so come avere gli sconti, quindi scrivetemelo nei commenti se avete qualche codice, sconto, qualcosa, se sapete come fare per avere qualche sconto o buona spesa di Demo, perché con Shein sono diventata abile nell'avere sconti, e con Temo che non conosco, non so come fare, tutti vedo che spendono pochissimo, entro io e ci sono i prezzi alti, quindi cosa sto sbagliando? Cioè sicuramente non ho i prezzi che dicono nei video, ecco, o c'è qualcuno che mente, o sono io che non ho capito il gioco gelato, non so, ecco, quindi probabilmente sbaglio io qualcosa. Allora, andiamo a vedere, ti dico invece di scriverlo, ti dico cosa ho pagato, eccetera eccetera, eccoli qua i prezzi che insomma ho avuto un sacco di sconto e quindi ho acquistato. Allora, ho aperto il pacchetto solo per prendere una cosa che avevo preso per Sam, poi ho detto il resto lo guardiamo insieme nel video, perché io apro sempre il pacchetto in diretta finché faccio il video con te, creatura, e perché mi piace di più, è più spontaneo, però questo che è un portachiavi ma l'ho comprato perché c'è il laser per far giocare Sam alla sera, perché voglio che inizi un po' a muoversi, come io vado in palestra, lei inizia un attimo a fare, perché ho visto che è difficile con solo la dieta, ma che dire, deve anche un attimo muoversi, ma dorme tutto il giorno, perché è un gatto di appartamento, allora volevo farla muovere ogni sera un pochino, e questo led costava 1,50 euro, ma ho pagato 84 centesimi, arrivava con colore random e ha sia la luce tipo normale di lampadina, chiamiamola così, la torcia, e poi anche il led rosso, e è arrivato tipo, sembra, è viola, è tra il blu e il viola, ma credo sia viola, sia viola, e quindi l'ho pagato 84 centesimi, mi sembra un buon prezzo, anche perché aveva già le batterie, poi, vediamo, peschiamo, vediamo che cosa ho comprato, perché non mi ricordo neanche, allora avevo preso queste graziosissime formine per fare i biscotti di Halloween, che comunque utilizzerò lo stesso, perché io i biscotti me li farò con le formine di Halloween sicuramente sempre, perché sono bellissime e tra l'altro sono minuscoli, quindi sono ancora più speziosi, noi verranno mille, adesso li vediamo insieme, avevo letto nelle recensioni che erano piccoli piccoli, quindi li ho presi per questo, perché non si trovano mai formine piccole per i biscotti, si trovano sempre giganti, tipo anche su Amazon per Natale, l'anno scorso, l'altro anno ho preso queste formine per fare pan di zenzero, ma è una schiaffo così, c'è anche un biscotto gigante, speravo fossero un po' più piccoli, però va, e quindi c'è il sacchetto che si scoppietta, comunque, allora, questi costavano 4,50 euro e sono 8 pezzi, li ho pagati 2,68 euro, mi sembra un buon prezzo, anche perché, oltre ad essere 8 pezzi, sono piccini, non sono veramente fatti bene, dettagliati, e poi mi sono anche arrivati con la loro confezione, con dentro anche dietro c'è scritto una ricetta per fare la pasta frolla cinese, c'è la ragnatela, la zucchetta, il giacolante, poi c'è il cappello della strega, il teschio, il gattino, il fantasmino, il pipistrello, l'onzolino e la caramella. C'erano tanti venditori con diversi biscotti, dagli biscotti di aloe, questo era il più carino perché c'era, mi piaceva tantissimo il gattino, il mini pepe strellino, il teschio, la zucca, sono i preferiti anche, il fantasmino, poi sono sagomati, invece altri che magari costavano anche meno, non meno dello sconto che ho avuto, non li facevano, non c'erano sagomati, venivano con un bordo, e non mi piace, mi piace l'idea che siano sagomati della forma giusta. Cioè nel senso che verrà proprio a forma di zucca, non una zucca con un contorno di biscotti, quindi un contorno tondo e poi, capito il senso? Ecco, e poi non so se è possibile togliere tipo gli occhi e la bocca e poi sotto fare un biscotto uguale col cioccolato, e quindi vengono anche i doppi con i dettagli colorati di cioccolato e anche con il repieno, per esempio. ci devo provare, penso che dovrò andare lì con uno stuzzicadenti a togliere gli occhi e la bocca, ma potrei anche fare una cosa del genere conoscendomi. E così piccolini, sono adorabili, cioè veramente buoni, peccato non siano arrivati per Halloween, perché avrei potuto regalarli, questi mini biscotti. Spero di trovare la versione proprio di questi di Natale, li stavo cercando, non c'erano, perché li vorrei così sagomati piccolini di Natale da regalare, fare tutti da bolle i pacchettini con tutti questi mini biscottini, capito? Però non c'erano, non sagomati, e io li vorrei così e poi così piccolini. Perché così piccolini sono troppo cute, non si può dire altro. Poi vediamo cos'altro ho comprato. Per Pilates, o anche per me, ho preso un paio di calze, ce ne sono due paio di calze, anche, scusate, ce ne ho tre paio di calze, adesso che mi ricordo, come in ogni haul io ho calze, perché non ho neanche un po' la passione delle calze, no? Queste costavano due euro, ma ho pagato un euro e venticinque. E tu penserai, ma un semplice paio di calze nere? No. Intanto, vabbè, le ho dovute, come al solito, prendere le calze da uomo, perché da donna sono un numero troppo, troppo piccolo per il mio piede, perché è al 41. E hanno tutte le dita come dei guanti, praticamente. Ho visto che le usano anche a fare Pilates in palestra, perché stiamo scalzi, scalzi meglio, senza scarpe, ecco. con i calzini, non sono un discivolo, però le volevo troppo con le dita e non le ho trovate in nessun negozio o mercato, e quindi quando le ho viste su Shein, ho detto, li prendo. Qui dice cotone, però non dice la percentuale, questo è il sacchettino dove c'era il laser, è arrivato in un sacchettino tutto col pluriball, dove a volte mettono anche la bigiotteria. Poi ho preso questa, che anche questa mi sarebbe piaciuto far uscire un video per Halloween, però, ahimè, è andata così. Però faremo comunque video anche fuori di Halloween, con queste cose, perché ho deciso così. ho già rotto il sacchetto, ma vabbè. Assessorize. Questi costavano ben 3 euro e ho pagato 1,71 euro. Io me le ricordo che quando c'era carnevale o Halloween, nei negozi di giocattoli, avevano un sacco di queste dita da strega. Premettendo che in foto sono totalmente diversi, e il colore è molto più chiaro, però vabbè. E poi soprattutto le ho prese perché sarebbero per bambini, quindi ho detto, tutti si lamentavano che erano troppo strette, e io ho detto perfette, perché io le dita da bambini, bambinata, super sottili, e a me sono l'aghi, mi fa bene solo il pollice. Comunque servono per fare, cioè puoi fare un cosplay, o puoi anche fare, io ho visto un botto di video, e perché li guardo, e mi piacciono, che fanno scratching, sul microfono, con questi dita da strega, non so, era andata una volta tempo fa, e quindi ho detto, oddio, mi dimentico sempre, ogni volta che su Amazon, non costano tantissimo, costano dai 10 euro in su, sono anche fatti meglio probabilmente, o probabilmente ti arrivano uguali, adesso io non so quale sia il pollice tra questi, perché sono tutte uguali, vuoi far ridere? Lasciami un like, siccome ho anche quelle, mamma mia quanto puzzano, ho anche quelle da lupo mare, a Naro, mi mancavano quelle da strega, e oltre a la strega, si può fare anche chi? la ragazza quella, perché sì, volevo fare un roleplay, prossimamente, che ritorna a quella ragazza là, che abbiamo visto, no? Quella tettona, e non spoilerò altro, perché un'altra, una creatura, mi aveva chiesto, un video, particolare, niente, stiamo facendo un casino fuori, assurdo, beh, stavo dicendo, una mia, creatura, mi aveva richiesto, questo video, e loro ho detto, vabbè dai, non si uscita a fare quello di Halloween, facciamo quello trash, perché è troppo bello, se mi metto le unghie finte, così è più trash, capito? Nella mia idea, è proprio divertente, perché, ok, il mio roleplay dovrebbe essere rilassante, però, rilassante e divertente, secondo me, è una combo, meglio, di rilassante e perfetto, ok, poi, ecco a te, benvenuto nel magico mondo, tutti gli scrunchies, ho visto, in un vecchissimo video, S.M.R.S.T.E.O., gli elastici, che, eh, si illuminano al buio, anche questi dovevano uscire, per, dovevano arrivarmi, prima di Halloween, così andavo in palestra, con questo, ma, vabbè, lo userò a Natale, tanto va sempre bene, verde, che si illumina, ci sta anche per Natale, c'è la carta, sento che ha, puzza, vabbè, praticamente puzza, 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 ha, tipo, una scatolina dentro, qui, e sento che c'è la carta, quella, sai che se la togli, le batterie poi si toccano, fa contatto, e funziona la cosa, anche il laserino ce l'aveva, perché così le batterie non si scaricano, per niente, è un pezzo scrunchies, per capelli led, con luci, fascia elastica, in raso, costava 1,90 euro, e ho pagato 1,19 euro, c'erano tanti colori, ma io ho scelto verde, ovviamente, perché meno, quando uno si illumina, mi piace averlo, addosso, non c'era lilla, c'era preso verde, ok, ho tolto la carta, mettiamo un po', ma è tutto verde, no? è colorato, ok, non si vede niente, c'è anche diverse fantasie, diciamo, di illuminazione, c'è tutta fissa, spenta, lampeggiante, tipo, crisi di biletti, lampeggiante un po' più lento, fissa, devi mettere fissa, bello, non c'è per 1,19 euro, dopo, una volta che si scarica, purtroppo, non si può ricaricare, perché non ne ho buchetti, che facciano uscire, ma che bello, grazie a te, che mi dai sempre questi spunti, per acquistare cose, trash, che però userò, in palestra, vi immaginate fare pilates, e lo accendo, le lucette, cioè, per Natale, fantastico, il pezzo forte, per il quale, in realtà, ho fatto l'acquisto, che è appunto, da mille anni, che avevo chiesto, anche a, Tokyo Berry, ASMR, se ve la ricordate, consigli, al riguardo, questi, magari, dopo che li ho provati, te lo, ti faccio sapere su Instagram, quindi, se mi segui, bene, se no, seguimi, mi chiamo, ecco, che è splendente, perché ho pensato, degli outfit, invernali, un po' più, femminili, ok, invece, dei soliti, pantaloni, d'ufficio, o pantaloni larghi, o pantaloni, con l'elastico, ecco, mi piaceva, l'outfit, con, maglioncione, tipo del nonno, che io ne ho tanti, però, con il naso, abbastanza, sopra il ginocchio, però, se mi metto le calze, con l'antaglio, muoio di freddo, e ho trovato, la soluzione, perfetta, perché ci sono, questi, specie di leggings, che, in teoria, dal, da come te lo presentano, e penso che sia così, perché anche le recensioni, lo dimostrano, simulano, un finto collant, sembrano, super sottili, leggeri, e sembra che, il mio dito, si veda sotto, in realtà, dentro, sono di pile, sono tutti di pile, e, e sono, rosa carne, quindi, quando vai a spingere, no, quando, quando il tessuto, spinge sulla pelle, si vede rosa, ma è rosa, in realtà, del pile sotto, e quindi, sembra che tu abbia, un collant, non so, 20 denari, e in realtà, hai un collant, 1000, perché ha il pile, e, e, e quindi, mi piace, una super figata, adesso, dovrei, indossarli, sulle gambe, per vedere, c'erano diverse taglie, io ho preso la, LXL, e, perché mi dava, 70, 50, 150 kg, ma non so che, cosa, il mio problema, non è, il peso, perché, sarò, massimo, 65 kg, adesso, però, sono 1 metro e 73, e le mie gambe, sono lunghissime, e, siccome sono prodotti cinesi, loro, normalmente, in media, diciamo, sono bassi, quindi, l'abbigliamento, lo creano, in base, alla loro, fisionomia, e, quindi, tante volte, mi prendo le calze, sui siti, cinesi, e, mi sono, corte, mi sono tutte strette, ma, perché, ho le gambe lunghe, non larghe, e, quindi, mi sono, comunque, piccole, e, tante volte, ho, rotto, le calze, per quello, perché, volevo che mi arrivassero, giustamente, fino al, almeno, sotto la pancia, sotto l'ombelico, ma, non arrivavano, e, queste, costavano, 7,50 euro, mentre, le ho pagate, 4,12 euro, che è un prezzo, buonissimo, perché, anche, su altri siti, costano, da 11 euro, in su, visto, un altro paio, di collant, però, questa volta, sono, normali, non, felpati, e, ho preso, un altro, scrunchy, per, da regalare, con le luci, perché, avevo trovato, questa offerta, che, erano rimasti, solo un pezzo, rosa, si vede, che, rosa, non piace a nessuno, non lo so, perché, il, rosa, costava, un euro, e, invece, il verde, costava, un euro, 90, però, io volevo, il verde, quindi, dopo, alla fine, non l'ho pagato, un euro, un euro, un euro, un dici, non l'ho, però, vabbè, appunto, che ho trovato, questo scrunchy, luminoso, rosa, a un euro, che poi, in realtà, ho pagato, 63 centesimi, e l'ho preso da regalare, e, non l'ho, non l'ho fatto, a togliere, la sicura, della batteria, perché, appunto, un regalo, e, è uguale, è uguale, solo che, è di raso, rosa, sicuramente, le luci uguali, ok, ultima cosa, queste, gotico, righe, collant, donne, ed epoca, punk, sexy, acquatri, patchwork, eccetera, eccetera, che venivano, 3 euro e 20, sto leggendo, dal telefono, e, invece, ho pagato, 1 euro 81, sono, strane, non le ho mai viste, così, appena le ho viste, ho detto, vabbè, queste non le ho mai avute, perché ne ho, una collezione, infinita, se mi segui, su Instagram, le avevi viste, perché, di qualcuna, ho messo, una foto, beh, ovviamente, così non si capisce, facciamo che, magari, ti metto, una foto, qua, da qualche parte, presa da Shein, e, se invece, le vuoi vedere, indossate da me, ti faccio, metterò, più avanti, una foto, su, sul mio Instagram, però, sono, veramente, particolari, sembra, che tu abbia, un doppio calzino, diverso, dall'altro, una doppia calza, tipo, auto, reggente, sopra, all'altro, sono molto, anche, mi piacciono un sacco, molto, molto da Harry Queen, secondo me, tra l'altro, se quelle lì, mi stanno, la taglia è giusta, e, sono belle, potrei anche, comprarmele, color carne, da mettere, poi, sopra, altre calze, per sembrare, che, appunto, sia, a gambe nude, con, queste qua, in realtà, non sto morendo di freddo, ma, ho, i leghi svelpati, solo che sono, un inganno, perché, sembrano, sembrano, gambe nude, quindi, è bellissima, sta cosa, adoro, oggi si può uscire, anche la sera, e ti senti bella, protetta, ok, questi, sono tutti, gli acquisti, che ho fatto, e, sì, a posto così, e, spero, che questo video, ti sia piaciuto, io ti auguro, buonanotte, buon relax, seguimi su Instagram, mi trovi con lo mega, di splendente, lasciami tanti like, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella, ciao creatura,